l'artista esistenzialista buongiorno a tutti informazioni servizi information service giusto per farvi sapere per talvi a conoscenza che il giorno 3 ma relativamente perché il giorno 3 di marzo sa il giorno in cui appunto ci saranno i miei 50 anni e quindi acute riflessioni pagate in merito e il giorno 4 quindi 3 4 sarò a roma invitato da andrea per la tesi regge cinematografia riguarda sia un cortometraggio scritto da me quindi poi sviluppato pian piano da lui per la tesi e tutto ciò che può riguardare il documental sulla vita dell'artista esistenzialista dovrei avere anche qualche incontro chi ha declinato per un caffè chi si chi no chi ancora in dubbio qualcun altro potrei incontrarlo fra i vari artisti magari un caffè qualche video a roma vediamo un attimino come si mette spero siano due giornate dense di significato lo saranno sicuramente abbastanza diciamo significative molto importanti tra 50 anni si tirano le somme si fanno anche le valutazioni su ciò che si è potuto imparare non faccio il discorso di un ritorno in termini comici quanto in termini di sicuramente esperienze a livello significativo personale per una crescita in prospettiva futura se abbiamo siamo riusciti ad imparare qualcosa in questo parte di questo tragitto su questa tormentata terra l'artista esistenzialista buona ciao a tutti